Ciao, io sono Josué Stavros, autore dei libri Sciamanesimo, Guarigione Sciamanica e la Meditazione Transipnotica. Da circa 15 anni mi occupo di sciamanesimo e crescita personale. Il mio lavoro è incentrato soprattutto nell'insegnare alle persone a mettersi in contatto con il proprio sé più profondo, in modo da liberarle da ogni sorta di condizionamento sociale e aiutarle a comprendere chi sono veramente e cosa desiderano. Questo processo è possibile grazie a una tecnica di guarigione spirituale che definisco Consuling Sciamanico e che permette di ricapitolare gli eventi della propria vita osservandoli attraverso una visione sacra, libera da ogni forma di giudizio. Il Consuling Sciamanico mette in atto un processo di profonda trasformazione che amo definire effetto farfalla, poiché porta l'essere umano ad uscire dal suo pozzo di paure e attaccamenti e a trasformarsi a livello simbolico in una meravigliosa farfalla, libera di volare in armonia con il tutto. Questo processo, oltre a spezzare ogni catena che ci impedisce di dare alla luce noi stessi, ci libera per sempre dalla condizione di vittime degli eventi, per diventare co-creatori del nostro destino. Il Consuling Sciamanico ci permette di superare i traumi del passato, di liberarci da credenze limitanti e paure che ci impediscono di realizzare i nostri sogni. Durante le sedute io accompagno la persona che si affida a me in un vero e proprio viaggio sciamanico dentro se stessa, dove può attingere a risorse sconosciute e dove scopre come trasformare ogni dolore, ogni paura, ogni attaccamento in potenti alleati. Nella visione sciamanica il dolore e la sofferenza hanno origine nella nostra mente razionale, che giudica, seziona e divide tutto in giusto o sbagliato, buono o cattivo, bello o brutto. Finché ci lasciamo guidare solo dalla nostra mente razionale, che è stata così pesantemente condizionata e manipolata dal sistema sociale, non possiamo compiere quella magia che ci permette di trasformarci da bruchi in farfalle. Per attuare questo processo alchemico dobbiamo imparare ad osservare ogni cosa e soprattutto gli eventi della nostra vita con gli occhi dell'anima e non della mente razionale, poiché l'anima è in grado di riconoscere il divino in ogni cosa e può insegnarci ad avere fede negli eventi e a diventare i co-creatori del nostro destino. Il consuling sciamanico può essere fatto anche a distanza, via Skype. Ogni seduta dura circa un'ora, dove si va a lavorare in maniera mirata su una questione in particolare. In ogni seduta si ha la possibilità di trasformare una parte di sé, una memoria del passato, cambiando la narrazione della propria storia personale. Cambiare la narrazione della nostra storia ci permette di sottrarci dalla trappola del vittimismo e di diventare più consapevoli del nostro potere in modo da esprimere appieno il nostro potenziale. Il consuling sciamanico è efficace fin dalla prima seduta e consente in tempi molto rapidi di mettere in atto il processo di trasformazione che ci porta a dare alla luce chi siamo veramente. Questo perché ogni cosa, ogni problematica viene analizzata nel profondo, sul piano dell'anima, trascendendo così i limiti della mente razionale. Grazie. 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 Grazie.